1.250 cantieri aperti tra cratere e fuori cratere, con una media di ammissibilità al contributo di 30 milioni al mese e una proiezione di 350 milioni l'anno per la ricostruzione privata. Numeri snocciolati da Paolo Esposito e dal suo ufficio speciale per la ricostruzione, con buone notizie che arrivano anche per la ricostruzione pubblica. Sulla pubblica buone notizie perché in questi giorni ci sarà una CIP che assegnerà altri fondi sull'edilizia scolastica e sulla ricostruzione pubblica della cratere. La previsione è di chiudere l'ultimo cantiere entro il 2025 ma sono dati in continua evoluzione, spiega. Sì, noi questa sera sul sito web mostriamo la pagina OpenUSRC in cui cliccando la parolina target si vede che prevediamo 2022, inizi del 2023, ultima ammissione contributo, mediamente 2025, ultima chiusura cantiere. Ovviamente è un dato medio, io dico sempre, poi bisogna andare a vedere il comune per Cotune. Intanto a Castel del Monte, bellissimo borgo dell'Aquilano, il sindaco propone un azionariato diffuso per riportare le case ad essere abitate 365 giorni l'anno. Questo si può fare con una proposta che io farò, sto facendo ai miei cittadini, di un azionariato diffuso, cioè costituire, mettersi insieme per far utilizzare le nostre seconde case nei periodi in cui il proprietario non torna a fare turismo a Castel del Monte. Quindi nei mesi che non sono agosto ma sono ottobre, novembre e in altri periodi diamo queste case alle famiglie. Ci sono molti in Europa, in paesi europei che vengono utilizzati, specialmente in Inghilterra, la famiglia vuole vivere nel borgo, vuole essere una famiglia del residente. Si costituirà questa società dove il proprietario metterà a disposizione il proprio immobile e quindi poi questa società gestirà queste strutture, queste seconde case, dandole in affitto. Quindi sarà una normale attività commerciale e alla fine, tolto le spese, quello che rimarrà sarà anche un introito che tornerà alle famiglie, anche per pagare, casomai, la tassa dei rifiuti, l'energia elettrica e altre cose. Sì al bilancio di previsione 2016. Lo ha approvato il Consiglio provinciale, all'unanimità, con l'astenzione dei consiglieri Alfonsi e Mazzocchi. Lo strumento finanziario della provincia dell'Aquila risente del taglio dei trasferimenti statali, pari quest'anno a 21 migliori di euro. Il Presidente ha spiegato che attraversiamo un momento particolarmente difficile per la forte diminuzione delle risorse a nostra disposizione, che sta mettendo, ha detto, ancora dura prova l'espetamento delle funzioni prevalenti in capo all'ente, ma siamo comunque impegnati, assicurato, a garantire la sicurezza delle strade e delle scuole attraverso interventi di manutenzione. L'approvazione del documento contabile è stata preceduta dalla votazione sull'emendamento al piano annuale delle opere pubbliche, presentato dal Presidente dei Crescenti, se approvato all'unanimità. Alla luce delle difficoltà economiche, abbiamo dovuto rivedere gli interventi di possibile realizzazione, favorendole quelle opere pubbliche che rientrano nella nostra capacità finanziaria. Il Consiglio provinciale ha anche approvato a maggioranza un piano quinquennale per la riduzione della presenza dei cinghiali nel territorio provinciale. Nel documento è prevista la riduzione di circa il 6% all'anno della presenza degli ungulati, per giungere nei cinque anni ad una riduzione di circa il 35%. Il piano avrà valenza su tutte le aree non vincolate dal punto di vista paesaggistico, al di fuori dei parchi della provincia. Per le altre aree sarà operativo solo quando la Regione Abruzzo darà il parere favorevole alla valutazione di incidenza ambientale, approvata dal Consiglio provinciale contestualmente al piano. L'altra novità, introdotta con l'approvazione del piano quinquennale, finalizzata alla riduzione della presenza dei cinghiali nel territorio, è data dall'introduzione della cosiddetta caccia di selezione, che permetterà ai cacciatori abilitati delle singole squadre, di intesa con i proprietari dei terreni, di andare a caccia tutto l'anno, e non più soltanto nel periodo compreso tra ottobre e dicembre. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.